Ciao belli, scusate l'intro vocale ma è importante, non fate caso al mio sclero iniziale e guardatevi il video. Vi posso solamente dire che magari vi stupirà, come è successo a me, e se volete la serie su YouTube, montate il mio stile sempre, 300 live, 3-0-0, da che ce lo vediamo, fatemi felice. Ragazzi, Nino Kuni, una serie che ho giocato sia al primo che al secondo e mi sono piaciute tantissimo, hanno fatto una mia mia lettera e l'altro pure italiano, wow. E' un gioco che nasce teoricamente per mobile, ma l'ho fatto anche un porting su PC, andremo ad analizzarlo sperando di non bestemmiare tutti i santi possibili del mondo. Ah, vabbè, giustamente. Ah, per loggare su mail, devo comunque loggare sul telefono? Mi sto già incazzando. Non è per fare il doppio dei download, no, no, no. Lo scarico. Oh, completa teoricamente, no? E' riduzione. Ma che errore! Orca tro... Te ne vai così presto, ma te ne affan... Soco. Ah, ok, ha funzionato, non so per quale miracolo divino. Io sono della Vergine, quindi Virgo. Io metto Virgo. Perché non mi fai scaricare tutto insieme? Perché i giochi mobile si scaricano a rate? Oh, sta... Vi do parte dei video oggi e domani vi metto l'avanti partito del video su Mega, che pesa 3-4 giga, per finire di guardare. Ok, bene. Sì, vabbè, ci metterà un eone, chiaramente. Vabbè, interrompo la registrazione che già sto registrando da 16 minuti. Mi guardo un po' di pedini in giro, non lo so. Mi son visto intanto la trilogia del Signore degli Enendi nel frattempo che aspettavo. Vabbè, questa è colpa della mia connessione che fa cacare. Possiamo loggare, probabilmente. Eh? Virgo. Dai. Dai, ce la possiamo fare. Virgo, scegli Virgo, cazzo. Cosa? Devo scaricare anche 4 giga sul telefono? Ma questa è pazzia. Cazzi, ma che cazzo? Ma questi sono impazziti. Questi veramente sono impazziti. Come cazzo si fa un gioco? Ci becchiamo fra un paio d'ore, un'oretta. Bravi comunque, complimenti. Ok ragazzi, ho fatto tutorial. Ho anche customizzato il PG. Una buona customizzazione per essere frutto il Play Mobile. Uh, allora. Ti muovi con Wast. È già una buona cosa. Salti con Space e scrivi con Shift. Hanno fatto un minimo di controllo sui comandi. Già va bene. Le skill come si usano? L'HD non è invadente per nulla. Ottimo. E tra l'altro le prime cutscene erano veramente carine. Io nell'MMO tengo a schipparle, ma erano veramente ben fatti. Cioè, non parliamo dei primi developer. Sono bravi. I comandi sono obbligato a cliccarli. Allora è probabile che magari debbano mettere i tasti per i comandi. Adesso vi faccio vedere alla cutscene. Questa non l'ho vista. Però sono belle. Ci sono belle per essere anche un MMO uscito per PC. Nemici. Fai bambini col naso, lei? No, non schillare automaticamente. Non schillare da solo. Non devi schillare da solo mai. Ok. Schiviamo. Come è il tacco base? È questo. Ci sarà un tasto? Bello che ci sono le aree d'effetto. Schivata. Mi sembra che è frame. Hitbox? Perfetto, è vero? Ok. Sembra molto curato. Mi sto sorprendendo. Devo capire un po' di cosette. Ah, ok. Eccole le abilità. Q, E, R, V. Non posso cambiarle? Posso dire che è già inaspettata... 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 È impossibile da dire. Senza che me l'aspettavo un buon feedback. Devono ancora fare qualcosa. Cioè non si può tirare il menu giù con la rotellina. Devi premere e cliccarci. Devono lavorare un po' sul porting. Ma è molto meglio di... Buon 95% dei porti che ho visto fare su PC. Quindi ok. Q, E, R, V attacco. Un po' scomoda la V. Ah, se clicco va in automatico. Ok, queste ce l'hanno tantissime in realtà. Anche non... Autoplay. Gran Fantasia. Quanti ce l'hanno? Ah, poi avremo altre tre abilità. Credo che siano queste. Fino a 6? Beh, il fatto è che ci sia il meme italiano. Gratis. Già la dice lunga. Che potete giocare cross, save. Sia da PC. Vediamo com'è, vediamo com'è. Chloe. Can you see your feet? Il mio nome, il mio nome è... Ah, devo andare adesso. Pensa un po'. Carina sta cosa. Pets? Hi! Who are you calling pets? Shut the fuck up, pets. Ah, guardate l'idol del PG quando sta fermo. C'è un idol. Sono belle anche le ombre, le illuminazioni, le texture. Va a 60 fps tranquillamente. Devo consegnare il suo uovo. Che belle le animazioni. Aspetta, mutandine si possono vedere di lei? Fermi, fermi, fermi. No, no, no. Fermi. Oh, so, so cute. Oh, 10 su 10. Che bella la foresta. Dio, è inquietante. Eccoli. Ma posso saltare mentre gli altri parlano, avete visto? Bellissimo, ma ce le schifate davanti ai dialoghi. Ma è bellissima sta cosa. Ragazzi, mi fa ridere, non so perché. E poi, vabbè, fa finta di nulla. Ok, equipaggio del tuo famiglio. C'ho il bu, non so che animale sia. Però è c'addissimo. Il combattimento, la schivata e frame, scusatemi, non mi dispiacciono in realtà. I comandi non mi piacciono. Sono scomodi. Squittino si chiama. No, squittino, squittino, non è il caso. Siamo su YouTube, beh dai. Erba sospetta. Ganja, cosa vuol dire erba sospetta? Posso calciarla? Perché lo piglio in mano? Beh, prima di valutare vi voglio vedere com'è proprio con gli altri giocatori. Però l'alimentazione è spettacolare. Bellissima. Sì, sì, sì. Un search heading veramente carino. Ok, forse abbiamo finito il tutorial. Ci spostiamo con altri giocatori, suppongo. Minchia, che cartone. Ok, altri giocatori? Quello c'ha pure la mount, il gattone. Come l'interazione con gli altri player. Ma guarda. Ok, posso guidare il profilo, invitare il gruppo a bloccarlo sul suo ruolo, segnalarlo. Aggiungerlo all'amicizia? Mettergli un like o aggiungerlo tra gli amici? Dove ho messo un like? Sto seguendo Nach. No, non voglio seguirlo. Ok, l'interazione tra le persone mi sembra giusta, corretta. La chat? Oh, carina. Ah no, i russi. Ciao, guys. Ok. Ma poi gli amici sono vivi, parlano. Ah, per la pre-registrazione è arrivato un costume. Allora, ragazzi, pre-registratevi. Fa un po' schifo al cazzo con quei pantaloncini del merda, però forse se lo tingo. No, è proprio peggio. Guarda, poi abbiamo le mount, i titoli, gli obiettivi. Ma poi tutto l'italiano, non ci posso credere! Non è questione di chi. Ma perché non capisci l'inglese, frascio, eh? Si capisce l'inglese. È proprio per la spensalatezza di giocare un MMO ogni tanto italiano. Ma sta roba girà sul telefono? Seriamente? Ma immagino certi telefoni. Su PC è straleggero. Dico quanto mi sta occupando? Ragazzi, niente. Niente. Ed è tutto a ultra, non mi sta occupando niente. Leggerissimo. Allora, i dialoghi sono belli. Un po' troppi. Aspè, aspè, aspè. Pacifico, non attacca i giocatori. Posso anche mettere il tipo di... Se sono un figlio di puttana o meno. Se sono ostile. Per esempio, il PIP questo. Ok. Crea un gruppo, cerca un gruppo. Unione Automatica. Forse per i dungeon. Ragazzi, poi non è uscita sta roba. È già interessante. No, la cosa che mi piace sicuramente è il mondo. Il cielo, il sole, le case, i colori. La città è veramente viva. Cioè, guarda che figa questa! Ah, ok. C'è un sistema di reputazione in base a quando e quanto aiuto le quest. Cioè, gli NPC per le quest secondarie. Non so quanto sia libero. Magari è scriptato che tu debba farlo fine. Sta cosa mi ammazza sempre. Guarda che figo sto fat! Pallone da calcio. Comunque ragazzi, lo porterò sicuramente in live. Oggi, alle 14.30, si scopre per bene il suo gioco. E se volete un altro episodio, 300 like. Dai! Ok, il tizio vuole che gli rubiamo delle parti di copaggiamento. Ci sono anche le moat? No stale? Sistema de moat, carino? Allora, ce ne sono un botto. Mettiti in posa? Ma che posa è? Ah, se avessi qualcuno con cui giocare? No, no, no! 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 Mi socio! Questa povera si chiama Quaqua. Oh! Quaqua! Possiamo affinare le piante. Perché dovrei farlo? In giro poi. Quaqua! Grandissima. Abbiamo anche il teleport. Per sposarci velocemente in mezzo alla città. Ok. Vabbè, non è che... Spacchiamo le cose. Quaqua, amica mia. Ho ottenuto la nuova abilità? Vediamo. Amicura. Ah, sono anche tante le abilità speciali. Barriera arcana. Capo protettivo. Ok. Si farma? Bastardi. Oro, 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 oro. Vai, farmiamo come le merde. È il momento del farming. Ma spero non è finito. Beh, forse mi danno tipo 9 euro che in realtà sarebbe nulla. Sto farmando come la merda, raga. Farmando come uno schifo. Comunque se lo registrano in tutto da due ore. Devo dire che è molto piacevole. Devo vedere quali sono i limiti. Cos'è? Devo evocare? La bambina rompicata. Ma cos'è? Ah, è lo spacchettamento dei famigli. Ma voglio quello lì, quello stupido. Addirittura la cazzin. Vai. Ok, scriptato che esca questo. Cerchio serpe. Si autofa un pompino. Ah, poi tutti anche questi? Ah, me ne escono diversi. Possiamo aprire ancora 10? Non lo farò per il momento, ragazzi. Che belle le animazioni! Che belle le animazioni! Equipaggiamento. Famili. Abiti. Ma che bellezza estetica incredibile. Artistica. Eccolo. Adesso c'ho sto coso. Si, comunque scriptato che il primo ti esca sempre questo, praticamente. Vabbè, ma vi regalano i giri. Oh, guardalo! C'è rimasto malissimo. Ok. Nino Kuni. Aspetto in live. Facciamo un nuovo PG con una nuova classe. Questa invece, 300 like se volete il episodio 2 o le mie serie. Io vi ringrazio per la views. Edvi se vi saluta e noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao. Ehi, ciao. Ti consiglio di guardare altri video. Tollo! Ciao. EDTAP three. Ehi, ciao. Grazie a tutti.